Musica 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 Vai, di qua non la puoi fare ora, non c'è nessuno. Vieni a fare un'ambiente salutora di San Savallo, questa è l'ospedale di San Nicola, perché non si racconta il nostro padre, ma in realtà non si racconta il nostro padre, ma si racconta la mia dichiarazione, non c'è nessuno. Per non farla, non farla. Grazie a tutti.